Ciao Baskers, io sono Valerio Ananze, nella vita faccio l'artista di strada, se non mi conosci in questo canale pubblico un sacco di informazioni riguardo questo mondo vlog, video dove suono in strada, canto con la gente e video anche di attrezzatura per suonare in strada come questo qui che non facevo da diverso tempo, un sacco che non condividevo un video del genere perché insomma mi sono preso più da altre cose comunque se ti sono utili, se ti piacciono questi video di divulgazione riguardo questo mondo iscriviti al canale perché mi sarebbe molto utile e grazie per il supporto in particolare in questo video vi volevo spingere quest'asta che ho trovato della T-Link che arriva dentro questo sacchetto, questa bag è super comoda, secondo me è super ideale principalmente perché è ipercompatta guardate quanto diventa compatta, cioè non avevo mai visto una cosa del genere quella che utilizzavo prima era della Samson, arrivava tipo chiusa, tipo a 60 cm questa dovrebbe essere 45 cm, quindi una roba del genere non avevo mai vista e ho detto wow questa qui per viaggiare, insomma sicuramente è la cosa più pratica che ci può essere fino ad ora, non ho ancora visto niente di più compatto quindi me la sono presa, principalmente magari per prendere gli aerei non so che me la metto dentro allo zaino facilmente quindi vabbè, insomma mi sembra abbastanza ovvia la motivazione e voi direte per come fa ad essere così compatta semplicemente perché insomma ci si smonta ci sono diversi pezzi cioè il braccio che si compone in questo modo e diventa così questa è la versione del braccio della base montata e adesso provo anche a montarvela per terra farvela vedere per terra quindi si apre sembra molto buona cioè comunque la lega acciaio alluminio comunque mi sembra buona non è una plasticaccia non c'avevi per adesso niente da dire così risultava da aperta per terra vedete ci sono le tre giunture qui e anche questa parte superiore la vite superiore per collegarci poi il braccio telescopico una volta aperta diciamo che arriva a un'altezza normale sia per cantarci in piedi sia per cantarci anche da seduti come sto adesso il braccio telescopico anche si può allungare anche questa è una cosa super figa e le meccaniche sembrano tutte molto buone cioè nel senso per adesso non c'ho niente da dire poi insomma il tempo solo ci dirà quanto quanto sarà longeva quest'asta quindi niente vedete si avvita sopra e poi arriva insieme al supporto questo qua come si chiama? non mi ricordo mai come si chiama però insomma sembra anche questo insomma normale di quelli comuni mi sembra abbastanza solida non so penso che non ci sia tanto altro da dire insomma mi ha impressionato questa estrema compattezza e portatilità quindi sicuramente la utilizzerò nei prossimi mesi nei prossimi tempi nei prossimi viaggi sicuramente la trovate qua sotto vi lascio il link per dargli un'occhiata un po' più nel dettaglio e questo è quanto ditemi se già la conoscevate che ne pensate se ve la volete prendere se volete condividere esperienze anche di strada insomma i commenti dei video sono sempre aperti vedo che poi col tempo si creano anche delle belle discussioni riguardo l'arte di strada quindi questa cosa mi piace un sacco dai e al prossimo video buon basking ciao 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 ciao